e bentornati alle video recensioni su questo canale e siamo luce siamo arrivati a questo 31 ottobre 2022 e a vigilia di ogni istanti e faremo due video questo in questo video parlerò dell'ultimo halloween visto al cinema e cioè halloween ends e nell'altro video invece parlerò di un film d'orrore un altro film d'orrore però per la per la per la notte horror devo ancora decidere di quale parlerò però prima di parlare di halloween ends bisogna parlare di halloween del 2018 e di halloween kills che era il secondo della trilogia allora nel primo halloween quello 2018 di questa trilogia universal blue mouse la storia fu approfondita in modo tale da ignorare tutti i sequel precedenti e facilitare la successione appunto del nuovo film il film venne accolto positivamente dalla critica cinematografica ci fu un buon successo al botteghino e il consenso critico dichiarò halloween 2018 cancella in gran parte la lavagna pulita dopo decenni di sequel deludenti ignorando la mitologia che funziona sempre di più grazie ad elementi di base ma comunque efficaci insomma le recensioni generalmente favorevoli per questo halloween 2018 il capitolo del franchise cominciato da carpenter nel 1978 con il maggior incasso stabilendo inoltre il record di incasso nel weekend di apertura per un film horror con protagonista una donna questo per quanto attiene al primo halloween ci aveva convinto non in pieno era uno slasher visibile eravamo contenti che michael myers tornasse dopo il come dire la la ripartizione rob zombesca del 2000 del 2007 dove ha fatto dei bikini no e john carpenter non aveva apprezzato la versione rob zombie e anche noi insomma sì c'erano delle cose interessanti però andare a scavare troppo sulle motivazioni fa scattare l'empatia nei confronti del 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 mostro e allora si arriva più a un'operazione frankenstein che è un'operazione slasher to cure del male meno si sa e meglio è perché se ne apprezza ancora di più la il brivido che suscita il brivido dell'improvviso il brivido dell'ignoto il brivido del dell'inarrestabile se inizi come dire a speculare troppo sul sul male non hai un film horror ormai un film un come dire un saggio di filosofia sul male allora leggiti quello e non guardare il film poi siamo a halloween kills che è il secondo della trilogy 2021 sempre diretto come il primo da david gordon green la pellicola sequel di halloween del 2018 è il dodicesimo film della serie di halloween in halloween kills e volevamo mostrare come le azioni di myers dice green abbiano avuto effetti anche sul resto della cittadina questa volta loristrode jamily cartis non combatte da sola contro il male ma dalla sua parte l'intera edonfield illinois scese in campo per stare al suo fianco e liberarsi per sempre dalle carneficine di myers kills e ci era piaciuto più di halloween halloween kills ci era piaciuto prima della trilogia franchise perché era pur essendo basilare basico aveva il pregio di molte uccisioni brillanti ed efferate quando michael entrava in azione ti 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 esaltavi e aveva il pregio di essere uno slasher basico elementare e abbastanza a fuoco come quello che avviluppava myers prima di essere liberato dai pompieri pasticcioni e poi aveva la sua forza nella con la coralità di addonfield compatta con tanto di fa di folla forconesca che inseguiva la creatura fuggita dal laboratorio dal laboratorio prigione ovviamente quindi halloween kills dei tre come dire gettiamo subito la la maschera è quello che c'è proprio il caso di dirlo è quello che ci è piaciuto più di tutti arriviamo back to back viene girato halloween hands nel 2022 ci sono state tutte le questioni di sospensione per via del covid no halloween kills era stato bloccato anche dal covid ma finalmente arriviamo al sequel di halloween kills che è il tredicesimo e attualmente l'ultimo film della saga di halloween allora su questo halloween hands mi devo soffermare un pochino di più di questo halloween hands salvo poche cose sicuramente la sequenza iniziale buona l'idea del babysitter e dell'incidente e dal del ribaltamento dei ruoli salvo paradossalmente il finale che è molto gogna western tipo banditi del west che in catramati venivano esposti alla gogna pubblica e cosparsi di piume esposti appunto al pubblico ludibrio per essere derisi ma soprattutto deplorati dalla società puritana e sul finale la società puritana si ritrova riconosce riprende la sua come dire antica antica mission for caiola e il mostro viene mostrato e infine si rivede appunto la vecchia comunità di adoff in illinois che si unisce per deplorare coralmente il male insomma il finale che ovviamente non non spoleriamo nel dettaglio però grosso modo lo abbiamo detto e il finale ha una sua forza espressiva messo che questo sia spoiler non so onestamente non so lo spoiler se è dire grossolanamente la fine è già spoiler comunque lo scriverò lo scriverò nel in descrizione così evitiamo polemiche che non ci devono essere lo spoiler no è il nuovo è il grande nuovo tabù di quest'epoca insomma il finale ha sua forza espressiva salvo anche e poi david gordon green il regista è bravo attenzione è un regista versatile è uno sceneggiatore produttore statunitense lo salvo come regista perché comunque nelle scene di azione sa muoversi e saprebbe anche tenere l'attenzione insomma ti fa gasare lo sa mettere in moto questo questa questa ombra della strega questo michael myers anche se a volte le appunto le le conclude e fa dei tagli peggio dei coltelli di myers ma non deve mettere mano alla sceneggiatura perché deve dirigere questo gordon green deve dirigere film già scritti sappiamo che farà l'esorcista breve lo sta come ultimando non si è capito bene però insomma deve nella sceneggiatura è veramente pessimo infatti i punti deboli di questo film sono sicuramente la trama e la sceneggiatura questo basta purtroppo per bocciare l'intera operazione boccia assolutamente il personaggio spompato di larry strode assolutamente messa in secondo piano come anche in secondo piano e altrettanto spompato è messo michael myers e questa è una cosa è un errore imperdonabile a scuola sui compiti italiano se ti scrivevano fuori tema ed era tre che sono andati fuori tema fuori tema boccio dialoghi fra il nuovo giovane assassino e la nipote di lori strode dialoghi bolsi banali peggio peggio di un'idiozia di un'idiozia fulminante ci sono dei dialoghi fra lui e lei che non si possono inudibili boccio lo sviluppo della trama che va continuamente a singhiozzo che vuole dire tutto vuole parlare anche sul bullismo sull'emarginazione meno meno e che alla fine non dice niente joker è un film sulla solitudine e di todd phillips è un film sulla sull'emarginazione sulla solitudine sociale come bolla pronta no a esplodere in halloween ens no qui tutto un paciugo confuso e pasticciato insomma questa conclusione della trilogy della trilogy franchise è sicuramente delle tre occasioni la più sprecata non aggiunge assolutamente niente alla saga di mayers anzi lo uccide definitivamente in questo a pensarci bene il film ci è riuscito a ucciderlo una volta per tutte incrociamo le dita su cosa farà david gordon green con remake dell'esorcista però questa era come dire questa carellata questa recensione su halloween halloween ens è un po più lunga perché volevamo riprendere tutta la trilogia insieme vedere no come da un halloween del 2018 poi un halloween kills che è il migliore capitolo del 2021 e poi si cade purtroppo inevitabilmente quasi nel parodico con questo halloween ens attualmente al cinema dispiace perché siamo fan di michael myers siamo fan ovviamente di quel cult di quel gioiello assoluto che è il primo film di carpenter che quello rimarrà sempre come dire una stella vera in un cielo fatto di cartone dove gli altri registi hanno cercato di appiccicarvi dei luccichini di carta gabellandoli per astri l'unico astro resta halloween la notte delle streghe del 1978 un thriller thriller con punte horror magistralmente diretto da l'inarrivabile john carpenter e gli altri silenti dietro